Il calcio avellino disputerà il campionato di Serie D. Gli ultimi dubbi sono volati via con la sentenza del collegio di garanzia del CONI, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla società sui format della stagione di Serie B e sui ripescaggi che potevano nascere a pochi giorni dall'inizio dei campionati di Serie C e D. La società di Patron De Cesare aveva definito nella scorsa settimana gli accordi con tanti elementi della rosa, a riprova di uno sguardo rivolto esclusivamente al primo campionato dilettantistico. Ieri per i bianco-verdi di mister Graziani, primo allenamento al partenio Lombardi, anche con il sostegno dei tifosi in tribuna. Si vola verso il primo match di campionato, il debutto alla Dispoli con un'arma in più, Ferdinando Sforzini. Per l'attaccante si tratta di un ritorno. Nove anni fa non è finita benissimo, quindi il desiderio mio di tornare c'è sempre stato. Non l'ho mai nascosto, quindi anche ai dirigenti l'ho sempre più o meno dichiarato. L'importante adesso è essere tornati, poi vedremo quello che sarà. È vero che Serie D è un campionato che non conosco, però il calcio è sempre quello. La palla è rotonda, le porte sono sempre della stessa grandezza, quindi è una bella sfida. E ripeto, anche se è Serie D, Avellino per me non è Serie D. Il collegio di garanzia ha sì deciso, ma di fatto l'estate dei processi non è finita. Domani l'Avellino di Walter Taccone si presenterà al Tal del Lazio per richiedere la riammissione in Serie B, non con la formula del ripescaggio, ma con l'obiettivo di cancellare l'esclusione motivata in estate dall'irregolarità delle fideiussioni. I legali dell'US puntano i fari sulla questione FinWorld che coinvolge Palermo e Lice. Un minimo spiraio per Taccone nel finale di un'estate caldissima per il calcio italiano.